Amichevole di lusso ieri all'inetto muscolo di Roccella Ionica, la Serie A calabrese, ovvero il Crotone ospite atteso nel rettangolo di gioco della cittadina Ionica. Un Roccella già in buono stato di forma, mette alle corde un Crotone ancora in rodaggio. La squadra di Galati ha tenuto botta al più titolato team di Nicola per tutta la partita. Crotone schierato con le seconde linee, Mister Nicola ha tenuto in panca per 70 minuti i pezzi pregiati della sua rosa. Spettacolo che però non è mancato, divertendo gli oltre mille spettatori accorsi all'inetto muscolo. Primo tempo con il Crotone che sale in cattedra mettendo ripetutamente alle corde il Roccella e serve un super mitica a frenare il team pitagorico. Al ventesimo Crotone in vantaggio con un imperioso stacco di testa di Cuomo e gara sbloccata. Il Roccella non demorda e risponde colpo su colpo, per ben due volte va vicino al pareggio. Saranno i legni a salvare l'estremo difensore pitagorico Festa dalla capitolazione. Pareggio che arriva nel secondo tempo, al 61esimo, con un tap-in di Laribi, il migliore in campo insieme al portiere roccellese mitica. Il caldo poi contribuisce a frenare il ritmo della gara, girandola di sostituzione. E a 15 minuti dalla fine Nicola inserisce i big della rosa pitagorica, con in testa l'ex Juventino Palladino. Galati invece dà gloria a tutta la sua panchina, sostituendo pian piano quasi tutta la squadra. Ma il risultato non cambia, 1-1 contro il Crotone. Il Crotone già pensa all'incontro di Team Cup in programma sabato 13 al Bentegodi di Verona, per la nota indisponibilità dell'Ezio Scida. Poi terzo tempo al Porto, dove è continuata la festa. Bene, grande partita qui al Nenetto, muscoli Roccella, tra il Roccella e il Crotone. Ci tengo molto affinché la mia squadra viene qui a Crotone, perché sono molto affezionato al Crotone, ma nello stesso tempo a tutta la città, perché è la mia città. Quindi è giusto che quando finisce il ritiro noi veniamo ogni anno qui. La squadra ancora non è completa. Alcuni titolari li avete lasciati per ultimo, tipo Palladino e altri. Sta provando la formazione base il mister? No, la formazione base secondo me è quella che ha giocato contro l'Atletico Madrid, il primo tempo e quindi oggi, siccome abbiamo un po' di infortunati, giustamente ha messo le seconde linee, però penso che per Verona la squadra ha già un'affezione a mia sua. Pensate di poter già sabato fare qualche risultato buono? Certo, andiamo in Copitali, andiamo a Verona, cerchiamo di fare il risultato. Giochiamo domenica, poi per completare la squadra ci vogliono altri tre o quattro elementi che stiamo monitorando e quindi penso che prima dell'inizio del campionato la squadra sarà completata. Allora, Checco, oggi una bella partita. Il Rocella ha dimostrato di essere in grado di disputare un grosso campionato nonostante qualche deficienza dovuta alla preparazione ancora approssimativa, la preparazione atletica. Quanta soddisfazione per il Crotone, oggi ospite nostro, e per la squadra. No, sicuramente ci ha fatto piacere fare bella figura davanti a un pubblico così numeroso con una squadra di Serie A. Sicuramente tu lo sai meglio di me, il calcio d'Agosta è un po' ingannevole. Ha fatto piacere il risultato di parità, che è un risultato che a noi interessa fino a un certo punto. Sicuramente infonde coraggio ai ragazzi. È stata una partita disputata ottimamente da questi giovanotti che dal 27 luglio hanno iniziato la preparazione per questo nostro terzo anno di Serie D. Sicuramente, ripeto, la squadra ancora è incompleta. Da qui a qualche settimana interverremo per chiudere la rosa a disposizione di Mr. Galati, ma i ragazzi oggi hanno dimostrato che possono indossare questa maglia con molto onore. E allora, mancano ancora dei giocatori che dovrebbero rafforzare la rosa che è attualmente a disposizione di Galati? Sì, abbiamo un paio di trattative in piedi, pensiamo e speriamo di chiudere almeno due su tre trattative per il prossimo fine settimana. Siamo quasi alla conclusione, speriamo che tra venerdì e sabato prossimo almeno due su tre, ripeto, possono aggregarsi alla squadra.